È durato 24 e non 48 ore, lo sciopero dei benzinai indetto in segno di protesta contro la campagna diffamatoria nei confronti della categoria e dei provvedimenti del governo. Uno sciopero che però alla fine non è stato condiviso da gran parte della categoria. Ed anche a Cosenza c'è chi non ha aderito spiegandone le motivazioni. Il motivo dello sciopero era la comunicazione dei prezzi medi, dei prezzi al carburante al MIS e l'esposizione delle tabelle con il prezzo medio regionale sugli impianti carburanti. Quando le problematiche degli impianti sono di ben altra ragione, ci sono motivi molto più gravi, molto più profondi, non hanno fatto sciopero per quanto riguarda i margini di gestione, pari a 3 centesimi al litro e su questo ci tengo a sottolinearlo perché molti clienti, molte persone pensano che sull'aumento dei prezzi il gestore ci marginano. Quando la realtà non è così, semmai è l'esatto opposto, noi guadagniamo pro litro e non sull'incasso, per cui al ridurre del prezzo noi guadagneremo di più. Un margine di guadagno che oltretutto si riduce è quando l'automobilista paga con moneta elettronica. Esattamente, perché noi oltre a guadagnare 3 centesimi al litro, quindi una paga da fame, subiamo il carobolletto, subiamo l'aumento spropositato dei prezzi e soprattutto, cosa di non poco contro, sono stati il taglio dell'accise proclamato dal governo qualche mese fa, un taglio dell'accise che abbiamo pagato noi di tasca nostra, abbiamo anticipato noi questo taglio voluto dallo Stato e nessuno ci è venuto incontro. La nostra categoria è una categoria sull'astrico che ha problemi seri e fare uno sciopero sull'invio dei prezzi al mese o sull'esposizione del prezzo medio regionale, che è un'operazione che richiede sì e no due minuti di tempo al giorno e non compromette la gestione di un impianto di carburante, di una normale attività lavorativa, secondo me non giustifica uno sciopero proclamato e poi non è stato fatto, tant'è che da 48 ore sono scesi a 24 e molti impianti, ripeto, in città nessuno ha aderito a questo sciopero.